Tornare in studio, ci ricordi il tuo sito internet? Sì, lo trovate su wordpress www.paoloturatitactica.wordpress.com oppure su google, su EU, sugli altri motori di ricerca mettete il mio nome e ci arrivate. Il bello è che nel sito di Paolo Turati poi ci finiscono un po' tutte le presenze televisive su Quarta Retta o altri emittenti che tu fai il che a noi ci dà un po' di pubblicità e per il tuo sito è comunque divulgazione economica. Ben volentieri lo faccio, certamente e quindi oltretutto aiuta anche a mantenere fresche determinate idee. Per esempio sono stato ad Arte Padova sabato pomeriggio tenendo una conferenza molto interessante di Art Market in un ambiente che uno dice Padova è la seconda fiera italiana per importanza dopo Bologna Arte Fiera. Quindi per dire che ci sono delle realtà dove effettivamente noi abbiamo Artissima qui che per carità non è una mostra di mercato è una mostra di alto livello ci sei andato? Ad Artissima certamente sì, all'apertura giovedì sera ho trovato un ottimo ambiente direi una buona partecipazione molti giovani le gallerie diciamo molto ben posizionate mi sembra che con l'inserimento della nuova direttrice ci sia stato un bel miglioramento non resta un mercato diciamo una mostra di mercato però diciamo che è una significativa presenza ormai in ambito piemontese. poi c'era tutta la coda ieri c'era la coda di auto a ridosso dell'ingotto la coda per entrare sinonimo di successo di Padova